qui siamo andati a Stravaresi come si chiamano in tutti questi luoghi che non vediamo qui si monti? non c'è, attenti se tu i conosci qui come si che, appena ridico il mardo qui si chiama? chiamata adesso, appena ridico il mardo questo giusto si chiama Marari non ha, cioè Gubili si chiama Marari questo giusto? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Come, come, come. Il B, il gars. Ah, il lui. Eh, 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 eh. Ah, non. Come, 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 come. Come, 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 come. L'età, qui c'è un legno più duro che c'è Qui su me è la nanta, ti manano in capo e io non tronco a niente Prova, prova a far così No, no, no Aspetta Vai 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 Ci riferiamo sempre le persone che conoscono i nomi di Siluga qui in Guagno Ma a te, no, è a noi Ma a voi Ma a voi Ma a voi Ma a voi Dopo il filmetto Ma a voi Ma a voi Ma a voi Ma a voi Ci riferiamo E Lo Ma a voi Ma a voi Sta Ma a voi Ma a voi Grazie per la visione!